Buongiorno, io sono Rosa Facollo e sono qui per presentarvi la nostra azienda. La nostra è una piccola realtà, una azienda a conduzione familiare. Coltiviamo gli olivetti di famiglia disposti su terrazzamenti vista mare ad Albenga. Produciamo olio extravergine d'olive da olive taggiasche e da altre varietà tipiche della nostra zona. Il nostro tipico olio ligure è quello che gli assaggiatori definiscono dolce, anche se dolce non significa il dolce dello zucchero ma significa un olio delicato, un olio che va bene su qualsiasi piatto. Olio ligure delicato ma che soprattutto nelle prime fasi dopo la frangitura mantiene dei sentori di carciofo, di pinolo e a volte anche di mandorla che lo rendono molto particolare. Poi abbiamo altri prodotti quali le olive in salamoia, rigorosamente taggiasche, patè di olive taggiasche, patè di olive colombaie con una varietà tipica autoctona sempre appunto di questa zona. Il nostro pallino è la qualità, ma qualità a tutti i livelli, partendo dalle tecniche di coltivazione, il più possibile attenta all'ambiente, infatti da noi non si usano deserbanti. Queste le nostre confezioni in lattina da 1, 3, 5 litri e poi le bottiglie da 1 e questa da mezzo litro con il tappo antirabbocco. Il tappo antirabbocco è una grossa garanzia per il consumatore perché non permette il riempimento successivo della bottiglia con olio che magari non corrisponde all'etichetta. Fra l'altro è molto interessante anche per il ristoratore perché permette di versare l'olio in maniera molto precisa senza sporcare l'etichetta. Potete trovare i nostri prodotti in vendita sul sito italymood.com insieme a tanti altri prodotti rigorosamente italiani.